ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di stilograficamente il canale riservato al mondo delle stilografiche oggi parto da un commento che ha fatto questa mattina carmelo 309 e un commento che era più una domanda e più o meno citava così quando io ho una penna con un converter quindi una penna che va a cartucce o convertitore nel momento in cui ho la necessità di ricaricarla è meglio farlo immergendo la sezione più il convertitore o converter che dir si voglia innestato nella boccetta d'inchiostro e quindi aspirando l'inchiostro oppure sfilando il convertitore dalla sezione e inserendo solo lui nella boccetta allora la risposta inizio già a dirlo e dipende perché ci sono pro e contro almeno secondo il mio modesto parere perché poi ognuno alla sua esperienza troverete in giro per youtube vari canali ognuno generalmente quando si ricarica si ricarica con la sezione il converter innestato nella sezione e in particolare tenendolo dall'alto quindi si tiene sulla parte alta il convertitore e si gira la manopolina per far sì che lo stantuffo vada giù e su quindi aspiri l'inchiostro non si tiene dalla sezione e poi si gira sopra questo perché altrimenti si rischia di sfilare il convertitore dalla sua sezione per alcuni è gravissimo sfidare il converter dalla sezione personalmente non ho un approccio radicale e vi spiego anche il perché allora innanzitutto quando mi pongo una domanda perché questa è una domanda io ti ringrazio carmelo per aver riformulato questa domanda sul canale perché in realtà è un quesito che mi sono posto anch'io e credo che molti si pongano questa domanda perché qual è il modo migliore per manutenere una stilografica con convertitore nel tempo qual è il modo migliore per farla durare nel tempo allora innanzitutto partendo dal presupposto che vogliamo usare il converter innestato nella sezione ogni volta che ci poniamo una domanda quello che faceva benjamin franklin era dividere foglio in due parti e immaginare quali fossero i pro e i contro e poi vediamo di capire qual è la scelta migliore allora innanzitutto solitamente il pro è quello di avere una meno minor usura del converter vabbè prima lo scrivo quindi minor uso i simboli per sbrigarmi prima minor usura del converter conseguentemente anche minor usura dell'alloggio vediamo di capire perché come dicevo prima qualunque tipo di gioco portiamo avanti nei confronti del convertitore qualunque sollecitazione a cui lo sottoponiamo si ripercuote sull'attacco del converter che in questo momento è alloggiato nella sezione di scrittura per cui se io lo scuoto lo smuovo rispetto alla sezione il rischio è che vada sia a sollecitare l'attacco del convertitore sia magari non è questo il caso perché la sezione è in metallo però metti caso ho una Lami Safari che ha l'alloggio in plastica potrei rischiare di allargare l'alloggio quindi maggiore è la sollecitazione a cui sottopongo il convertitore maggiore sarà l'usura sia dell'attacco sia della sezione quindi se continuo a sfilare e a rinfilare il converter nel suo alloggio ovviamente questo si ripercuoterà in una maggior usura della penna nel suo insieme poi qual è l'ulteriore pro di usare il converter infilato nella sua sezione beh senza ombra di dubbio l'inchiostro è già in punta cosa vuol dire beh se aspiro direttamente con la sezione il pennino innestati con il converter innestato nella sezione e quindi collegato col pennino quando vado ad aspirare l'inchiostro lo faccio proprio dalla punta quindi avrò già irrorato tutti i canali del mio alimentatore quindi non dovrò aspettare una volta finito il ciclo di ricarica di il tempo che impiega l'inchiostro a ridiscendere in punta o non dovrò forzarlo con un giro di manopola ok quindi i contro di questo approccio vediamo quali sono beh nella manutenzione ordinaria questo continuo uso del convertitore innestato nella sezione cosa comporta che chiaramente se io non lo rimuovo da questo alloggio l'alloggio rimane un po' sporco quindi dovrò fare tutta una serie di lavaggi quindi aspirazione ed espirazione dell'acqua per pulire sia l'interno del converter sia la sezione farò un grosso numero di lavaggi quindi sicuramente lasciarlo all'interno della sezione implica un maggior numero di lavaggi ok e beh è ovvio non accedo facilmente alla sezione non posso neanche usare la pompetta che avete visto nella manutenzione ordinare della stilografica per cui non posso aspirare acqua ed espellerla dal pennino è un po' più difficile pulirlo pulire la sezione in questo modo dovrò fare tanti tanti cicli di aspirazione ed espirazione dell'acqua quindi una pulizia meno profonda poi se non pulisco adeguatamente la sezione e il convertitore qual è il rischio il rischio è quello di contaminazione vi chiedo scusa della scrittura però contaminazione dell'inchiostro cosa intendo beh chiaramente se non avete pulito a fondo la vostra penna il rischio è che quando poi andrete ad aspirare alto inchiostro solitamente quando si ricarica sia con stantuffo sia con convertitore si ripete la manovra più volte quindi questo stantuffo aspirate una prima volta vi accorgete che non sale abbastanza inchiostro lo riportate in giù aspirate nuovamente e già al secondo tentativo vedrete che l'inchiostro sarà salito di un livello maggiore questo significa che c'è un continuo di rivieni dell'inchiostro dalla penna alla boccetta chiaramente se qui dentro è già contenuto un altro tipo di inchiostro potrebbe reagire chimicamente in modo sfavorevole sia per la penna sia per la boccetta d'inchiostro solitamente ci sono inchiostri ad esempio che sono più inclini a darvi delle muffe nel tempo o banalmente magari non compromettete l'integrità la qualità del vostro inchiostro ma ne alterate la tinta perché? perché l'avete mescolato banalmente anche con una goccia di un'altra tinta completamente diversa quindi se fate un utilizzo della penna con lo stesso inchiostro questo problema non lo avete se dovete cambiare inchiostro magari è il caso di pensarci un po' su ecco e poi un problema che abbiamo visto essere un pro dell'usare il converter innestato nella sezione sta proprio in questo l'inchiostro qui non sarà già in punta nel momento in cui voi avete allora il pro è di averlo in punta come inchiostro il contro è che qui non c'è un contro ma se nell'alternativa voi non lo usate innestato nella sezione chiaramente se andate a pescare direttamente col converter all'interno della boccetta primo dovrete pulire il converter prima di inserirlo nell'alloggio almeno esternamente dovrete passarlo con un panno questa è un'operazione che io non ho mai fatto sinceramente io di solito pesco con il converter innestato nella sezione proprio perché è più comodo vi trovate già l'inchiostro in punta e oltretutto non dovete stare lì a pulire il converter da ulteriore eccesso di inchiostro che è una cosa che trovo scomoda e anche anti-economica perché comunque state sprecando l'inchiostro la superficie di contatto di un pennino è inferiore a la superficie di contatto piatta di un convertitore ok perché se questo è un converter chiaramente non vi darà lo stesso tipo qui c'è lo stantuffo qui c'è la vite qui c'è la c'è la manopola però un convertitore tendenzialmente non vi darà lo stesso tipo lo stessa area la stessa superficie di contatto che vi dà una punta di un pennino la punta ha una superficie senza dubbio inferiore poi scorrendo il pennino sulle pareti della boccetta magari riuscite a eliminare l'inchiostro in eccesso col convertitore questa manovra non la potete fare se pescate direttamente un'altra cosa è che chiaramente come stavo dicendo prima lo inserite nella sezione poi dovete dare un piccolo giro di manopola per far sì che l'inchiostro vada in punta e aspettare che l'inchiostro appunto vada in punta appunto vada in punta è bellissimo e con il rischio anche di esagerare nel giro che state facendo della manopolina e quindi la gocciolina poi vi vada a sporcare il foglio perché andrebbe in eccesso di afflusso se avete girato in maniera eccessiva e quindi avreste un surplus di flusso di inchiostro che solitamente si manifesta in una goccia che cade sul foglio vi sporcate il foglio l'inchiostro lo sprecate quindi senza dubbio per me l'uso del convertitore senza il pennino è da scoraggiarsi per me in ultima analisi anche e soprattutto per i pro e i contro che abbiamo detto però questo non significa che voi non dovete mai smontare il convertitore dalla sezione perché nel momento in cui decidete come stavamo dicendo prima di cambiare inchiostro cambiare tinta cambiare marca è vivamente sconsigliato senza pulire bene sia la sezione che il converter quindi a quel punto il consiglio che personalmente mi sento di dovervi dare è smontate la penna in tutte le sue parti e pulitela a fondo prima di ricaricarla con un nuovo inchiostro per cui sì va bene continuate a pescare tranquillamente con il vostro convertitore ve lo consiglio con il convertitore innestato nella sezione ve lo consiglio tenetelo sempre dall'alto in modo tale da sollecitare meno l'attacco quando andate a girare la manopola state solo attenti di tenerlo molto basso sulla boccetta cioè non fatelo ad altezze molto grandi perché se dovesse sfilarsi per via del peso in questo caso ad esempio la sezione è in metallo per cui è abbastanza pesante rispetto al resto rispetto al convertitore se non è bene innestato il rischio è che possa cadere per la forza di gravità quindi un pennino che cade da un'altezza contenuta si danneggia poco se dovesse cadere da un'altezza più importante il rischio è quello di piegare i rebbi e quindi poi c'è tutto c'è tutta l'esperienza da fare nel risistemare poi i rebbi non ci sono tendenzialmente dei punti di non ritorno in questa operazione io non ce li vedo onestamente proprio nel caso peggiore vi dovete procurare un pennino di ricambio se dovesse capitare una cosa di questo tipo ma è proprio veramente il caso peggiore è inevitabile che si facciano pasticci con le stilografiche non scoraggiatevi questi vogliono essere suggerimenti dal mio punto di vista fatemi sapere anche cosa ne pensate voi mi interessa anche perché su questo argomento diciamo si sono spese un poco di parole in giro per il web trovate dei post di persone che sconsigliano assolutamente di rimuovere il convertitore dal suo alloggio perché comunque lo sollecitate nel tempo si usura eccetera ho capito però se avete degli inchiosti che costano 35 euro alla boccetta come possono essere gli Hiroshizuku magari per una penna di cinese a converter o cartucce che vale sicuramente meno di una boccetta di inchiostro giapponese magari mettete sui piatti della bilancia le due realtà e decidete quale è la più sacrificabile magari preferite la penna cinese perché siete affezionati ci avete scritto tantissimo e volete sicuramente privilegiarla in termini di usura rispetto alla boccetta di inchiostro quindi preferite la possibilità di contaminare l'inchiostro con un'altra tinta o addirittura una reazione chimica incontrollata tra marche e tinte differenti anche se non è che usiamo dei reagenti chimici ci sono inchiostri a base di acqua generalmente poi ci sono delle tinte rivisitate da un punto di vista chimico quali possono essere i ferrogallici gli inchiostri a nanopigmenti possono essere inchiostri bulletproof come nel caso dei noodlers che hanno delle qualità delle caratteristiche chimiche la cui formula è anche sconosciuta però almeno a me però in linea di massima è una valutazione che potete fare soltanto voi e si basa sulla vostra esperienza quello che era il mio intento era di esporvi quali potevano essere i pro e contro di usare una ricarica con il converter innestato nella sezione oppure no cioè i pro e contro di questo e eventualmente immaginare quale potesse essere l'elemento a sfavore di usare il converter sfilato dalla sezione credo di aver raggiunto il mio obiettivo e vi ho dato anche la mia personalissima opinione fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione e al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti grazie a tutti